ciao ragazzi sto facendo questo video un po improvvisato scusatemi se la qualità non è delle migliori lo sto girando con l'iphone il microfono non so se è dei migliori tra l'altro anche questo nuovo microfono lavalier che avrei voluto rinnovare sicuramente per un altro video invece sto facendo questo video improvvisato da poco mi sono alzato ho ricevuto una notizia bruttissima appena mi sono alzato una notizia che veramente mi ha sconvolto una notizia una notizia che che speravo di non sentirmi mai dire pensavo fosse solo un incubo invece purtroppo è la realtà questa mattina mi sveglio e leggo che se n'è andato uno dei più grandi per me un mito assoluto della commedia italiana ma oltre che della commedia italiana del cinema italiano se n'è andato il figlio del grande steno vanzina se n'è andato carlo vanzina e per chi mi conosce sa quanto per me questo regista sia importante sia e lo sarà sempre se io nella vita voglio fare l'attore e faccio l'attore se io nella vita voglio fare il comico e faccio il comico perlomeno continuo a studiare mi do da fare faccio casting per farlo e anche grazie a lui io avevo quattro anni quando con la mia biciclettina con la mia biciclettina andavo dal via leado a pistoia dove dove sono nato alla videoteca che si chiamava videometa prendevo la mia biciclettina e facevo ogni giorno un chilometro e mezzo avanti e indietro ed ero l'unico bambino che invece di noleggiare il nuovo film di di topolino o il nuovo film della disney noleggiava il nuovo film di carlo vanzina ma non solo il nuovo film io prendeva in rotazione sempre i suoi film diretti da lui e scritti da suo fratello enrico vanzina ogni giorno loro dobbiamo dire la verità sono quelli che hanno unito insieme due miti per me come boldi e de sica e sapere che oggi se n'è andato un grande come lui mi fa tanto tanto male ma veramente e visto che sul mio canale youtube porto tutto me stesso sia nei videocomici ma ultimamente più nelle recensioni amando il cinema e recensendo tanti film non potevo tirarmi indietro e non fare un video omaggio a questo grande artista questo grande regista questo grande uomo questa grande persona che era carlo vanzina ma che resterà sempre nei nostri cuori perché carlo vanzina ha dato tanto a noi ed era il minimo che potessi fare io cioè questo video lo dovevo fare era proprio il minimo lo dovevo fare cercherò di essere sintetico non di fare una delle mie solite lungagnate però è veramente tanto il dolore cioè se io penso che il cine panettone è nato grazie a lui se io penso che lui ha unito insieme due miti come massimo boldi e cristian de sica in quel meraviglioso film che era iupis se io penso che da lì in poi la coppia boldi e de sica è diventata una delle copie più famose del cinema italiano che quest'anno tornano insieme cioè se quest'anno tornano insieme nel 2018 con amici come prima finché non vedo l'ora di vedere e anche grazie a carlo vanzina che ai lontani tempi di iupis li ha uniti insieme per me vuol dire tanto questo carlo vanzina oltre ad aver unito i due miti per me assoluti del cinema italiano come boldi e de sica ha fatto tante commedie meravigliose ha fatto due capolavori che sono sapore di mare e vacanze di natale il primo vacanze di natale il primo cine panettone nel 1983 come proprio del 1983 anche sapore di mare quante risate quante emozioni carlo vanzina insieme a suo fratello enrico alla sceneggiatura ha sempre raccontato la nostra italia i vizi dell'italia i problemi degli italiani i modi di fare degli italiani a volte in chiave più realistica pensiamo a vacanze di natale pensiamo pensiamo ad esempio a film comunque i primi diciamo i film a volte in modo più realistico a volte con la chiave più della farsa però una farsa sempre divertente magari ci poteva essere l'espediente demenziale ci poteva essere l'espediente non realistico per eccellenza però la bellezza del cinema è che riesce a rendere vero tutto anche anche l'aspetto più anche l'aspetto più irrealistico la bellezza del cinema in queste carlo vanzina si è sempre saputo destreggiare in mezzo a commedia più realistica in mezzo a commedie più demenziali in mezzo a commedie più riflessive io solo l'anno scorso l'avevo l'avevo apprezzato tantissimo in quella bellissima commedia che era ed è caccia al tesoro ma per non parlare di non si ruba casa dei ladri suo penultimo film che per me è stato meraviglioso sia non si ruba casa dei ladri sia caccia al tesoro le sue due ultime fatiche sono state delle pellicole che hanno mangiato la grande tradizione della commedia italiana degli anni a venire ed è ed è un qualcosa ed è un qualcosa di meraviglioso volevo dire degli anni passati è un qualcosa di fantastico è un qualcosa di di eccezionale se io penso di non poter più vedere nelle sale un film di carlo vanzina sto veramente male solo la scorsa settimana cercando su internet avevo letto che carlo ed enrico vanzina parlavano di questo nuovo film che avrebbero cercato di girare il prima possibile per poterlo portare farlo uscire nelle sale a novembre a novembre del 2018 sarebbe stato un film in stile spqr avevo letto film meraviglioso con boldi desicca e leslie nilson che avrebbe raccontato un po la parte politica italiana avrebbe raccontato un po il disastro italiano a livello politico a livello comunque finanziario che che comunque che comunque abbiamo visto in questi ultimi anni e se io penso che questo film non vedrà mai la luce mi fa male però so che una grande luce ora la vedrà carlo vanzina e spero che questa luce lo accompagni nel paradiso più bello perché se lo merita io non so che male avesse però so che aveva 67 anni che non si meritava questa cosa e voglio che stia bene ora da lassù voglio che diriga la miglior commedia di sempre voglio che saluti paolo villaggio il mio amico nichi giustini e voglio che stia bene sarà triste pensare di non poter vedere più sue commedie cioè io spero che enrico vanzina continui comunque a scrivere ottime sceneggiature che e che comunque qualche regista possa portarle avanti perché io ero abituato a vedermi una ma anche due commedie di carlo vanzina all'anno in sala basti pensare agli scorsi anni l'anno scorso caccia il tesoro l'anno prima non si ruba a casa dei ladri miami beach ce ne facevo uscire anche due all'anno ed è veramente triste è una notizia che non avrei mai voluto sentirmi dire c'è la tristezza è tanta il dolore è tanto nella vita per me la felicità è una cosa importantissima e quali sono le cose che mi rendono felice da sempre la mia famiglia la mia ragazza elisa il mio migliore amico gabriele cioè io studiando a milano e quindi non essendo più in toscana sono spesso via dai miei affetti più cari fortunatamente ho la mia ragazza lì però è anche vero sono molto distante dalla famiglia molto distante dal mio miglior amico ripeto fortunatamente ho lì la mia ragazza però come tutti pur facendo quello che amo di più cioè studiare recitazione e lavorare a volte la vita non è sempre facile senti la mancanza ma comunque non solo per la mancanza degli affetti ma perché comunque problemi ce li abbiamo tutti e ognuno cerca la felicità a modo proprio io un motivo per la quale sono felice perché ho accanto persone straordinarie come ad esempio la mia ragazza però amando il cinema sapete qual è da sempre una mia una mia un mio espediente per essere felice il pensare a quello che vedrò cioè vi faccio un esempio se io un giorno sono triste o comunque un giorno nemmeno sono triste ma sono affaticato per la giornata che dovrò affrontare seppur faccia ciò che amo però quante volte vi capita di dover andare in fila alle poste di dover fare lunghi chilometri di dover andare in giro di non avere un minimo di riposo e di abbattervi eccoci perché io cerco sempre di riprendermi e soprattutto come faccio io a riprendermi mi basta andare su internet digitare su google nuovo film carlo vanzina nuovo film nei riparenti prossime uscite che siano americane inglesi francesi giapponesi italiane e leggermi un po dei prossimi titoli in lavorazione i prossimi film che usciranno io dirò e io dico a me stesso paolo ma perché sei triste ma perché ti abbatti fai questo che quando tornerai a casa quel dato giorno quella data settimana quel dato mese ti andrai a vedere in sala il nuovo film di vanzina il nuovo film di neri parenti il nuovo film di scorsese cioè capite io devo sempre ringraziare il cinema perché il cinema è uno dei motivi per la quale io sono felice perché io faccio le cose ben sapendo che dopo sarò premiato e sarò premiato in un modo meraviglioso perché andrò al cinema o comunque mi guarderò quel dato film e quando io tipo l'altra settimana magari dovevo dovevo stare a milano sotto il sole col caldo e dicevo porca miseria mamma mia pur facendo ciò che amo è un po abbattuto però poi ho aperto google e ho letto i vanzina parlano del loro nuovo film io ho detto paolo devi sorridere mi è tornato il sorriso e non è non è una cazzata è vero chi ama il cinema lo potrà capire ma quanto è bello sapere che il tuo regista preferito uno dei tuoi registi preferiti sta preparando un film e a me è tornato subito il sereno dentro è tornata subito la felicità nonostante nonostante ripeta le cose che mi rendono felici sono tante ripeto la mia ragazza il mio migliore amico gabriele il mio amico danilo grande amico che che sento che sento spesso anche se solo su whatsapp per parlare di film che ci consigliamo a vicenda cioè i modi per essere felici sono tanti e io li sfrutto tutti le amicizie l'amore la famiglia però oltre a questo ciò che amo l'accademia ciò che studio però oltre a questo il cinema mi ha sempre dato una marcia in più mi ha sempre dato la possibilità per essere felice ancora di più e se ora io penso che di nuovi film di carlo vanzina non ne vedrò più mi fa davvero male io carlo vanzina l'ho conosciuto nel 2013 anche solo per una breve chiacchierata sul set di sapore di te film meraviglioso che che omaggia un caldo un capolavoro come sapore di mare film bello ed emozionante lo conobbi a pietra santa sul set di sapore di te ci parlai poco ci fece una foto però fu un'emozione incredibile un mio sogno sarebbe sempre stato quello di di lavorarci insieme con lui con i riparenti mamma mia che che onore che sarebbe lui ha dato vita al cine panettone un filone che è detestato da tantissime che io invece amo perché io penso che il cine panettone serva a regalare le migliori risate a far stare bene nel cinema non vi è solo il drammatico il film riflessivo il film alla kubrick il film alla lincia a volte è anche bello rilassarsi rilassare il cervello ridere e comunque ridere vedendo una fresco dell'italia a volte ripeto in modo più demenziale a volte in modo più realistico ma cosa c'è di più bello e quindi che dire carletto hai dato vita al cinema prima tuo padre poi te la generazione la generazione non ha mentito il tuo primo film luna di miele in tre che custodisco in dvd che meraviglia con renato pozzetto del 76 eri giovanissimo e da lì hai continuato hai dato vita a capolavori vacanze di natale nell'ottantatré sapore di mare nell'ottantatré eccezionale veramente hai lanciato un sacco di comici car che cristian de sica massimo boldi gerry cala i migliori hanno lavorato con te carina af che anche lei poverina se n'è andata diego abbatantuono carletto ma cosa c'è fatto questa è stata veramente una cosa che mi ha rattristato molto e io penso che per una volta la commedia piangerà la commedia piangerà perché senza di te il cinema non sarà più lo stesso e la risata non sarà più non sarà più la stessa io sono vicino a tua moglie sono vicino sono vicino alla tua famiglia sono vicino a tuo fratello enrico e con il cuore ti sarò sempre debitore perché comunque ripeto se voglio fare questo mestiere è anche grazie a te anzi grazie ancora grazie grazie di aver dato vita al cine panettone di aver unito insieme boldi e de sica di essere stato il motivo della mia felicità in campo cinematografico ma che poi ovviamente la felicità in campo cinematografico si riflette nella vita di ogni giorno quindi grazie grazie questo è un momento dove tutti dobbiamo stare zitti e pensare a quanto hai fatto tutti anche quelli che detestano i cine panettoni cioè è innegabile è impossibile non non soffermarsi comunque non soffermarsi sul pensiero che te hai dato nuova linfa al cinema italiano insieme a tuo fratello quindi io invito tutti anche i più criticoni anche quelli che solitamente sotto i miei video dei cine panettoni dove le ricensisco mi offendano mi criticano io vi invito a riflettere se ne è andato un pezzo del nostro cinema italiano se ne è andato un pezzo della nostra italia carlo continuerei a parlare a parlare di te le parole non mi vengono nemmeno bene non ho preparato niente e non so nemmeno come come sarà poi questo video se sarà ben come si dice se si ascolterà facilmente non lo so però mi fermo qua e una cosa però te la dico che te carletto mio nazionale te Carlo Vanzina sei e resterai sempre eccezionale eccezionale veramente e con te il cinema ha avuto nuova vita eh con te il cinema ha tutt'altro gusto ha un sapore strano quasi un sapore di mare ci hai sempre fatto stare bene sempre ci hai sempre fatto sentire i fichissimi e se io mi sposassi mi porterai sempre dietro i tuoi film mi porterai sempre dietro il tuo cinema infatti sarebbe una luna di miele strana quella mia di mia moglie sarebbe quasi una luna di miele in tre e con te farei farei crescere i miei figli li farei vedere i tuoi film poi magari li farei giocare anche caccia al tesoro e che dire le mie vacanze con te sono sempre state le migliori le mie vacanze estive ma anche le mie vacanze di Natale e per concludere i tuoi film sono tanti però ti dico che sei e resterai sempre ripeto eccezionale eccezionale veramente ciao Carlo un bacione dovunque ti trovi grazie a tutti